Ciao, in precedenza vi ho fatto vedere come fare a guadagnare delle criptovalute, quindi in questo caso Bitcoin, Dogecoin e Litecoin, tramite Moon Doge, Moon Bitcoin e Moon Litecoin. Vi ho fatto vedere che questi introiti venivano appoggiati su un portafoglio virtuale che è Coinpot, che sostanzialmente è un conto corrente, se così vogliamo chiamarlo, in riferimento a queste tre criptovalute. Questa sera voglio andarvi a far vedere una cosa ancora più interessante, ovvero come incrementare i guadagni tramite questo portafoglio, ovvero tramite Coinpot. Ci logghiamo, in questo caso ho questi piccoli guadagni perché ho aperto questo account ieri praticamente. Allora, novità, se io clicco su ogni menu a tendina delle varie monete, come in questo caso il Bitcoin, troverò una nuova voce, Mine Bitcoin. Cosa sarà mai? Andiamo a cliccare e mi si apre questa pagina. Questa pagina sta a significare che io sto cominciando a minare Bitcoin in questo momento. Andiamo a selezionare, diciamo, la potenza che vogliamo far sfruttare dalla nostra CPU e di conseguenza andiamo ad aprirci anche un'altra moneta. Quindi andiamo sul Doge. Se me lo apre. Mine Dogecoin Mi si aprirà la stessa identica pagina. Quindi ritorno ancora sull'altro. Ok. E apriamo anche l'altra pagina inerente a Litecoin. Quindi, menu a tendina, Mine Litecoin. Adesso, come vedete, mi sta rallentando il PC. Perché? Perché la potenza della CPU la sto dedicando all'utilizzo del mining. Quindi, praticamente, è normale che se vi vogliate vedere un film mentre state facendo questo tipo di lavoro, è sconsigliabile. Ok? Ok. Benissimo. Andiamo a vederci i risultati, però. Perché io ho scoperto questa cosa proprio recentemente. E vi voglio far vedere cosa sono riuscito a fare. Quindi vado a cambiare l'account. Esco fuori. Mi vado a rilogare con un altro account. Questo. Ok. Andiamo a vederci un po' la storia. Apriamo Bitcoin. Allora, come già in precedenza vi spiegavo, queste oscillazioni sono dovute agli incrementi o ai ritiri di moneta. Quindi, ho incrementato, ho ritirato, ho incrementato, ho ritirato, ho incrementato, ho ritirato e via dicendo. Qua di fianco vi rendete conto di una voce diversa rispetto a prima, ovvero Mining, Earnings. Qui a fianco, praticamente ogni 5 minuti, mi accredita una somma che va, praticamente, a accumularsi al nostro portafoglio. Io l'ho fatto così per tutte e tre le monete, poi le ho convertite tutte in Litecoin. Tanto che, come vedete, fino a poco tempo fa, accumulavo e ritiravo, ma arrivavo indicativamente a questo, questo è stato il picco massimo. Da quando ho iniziato a minare, praticamente, ho fatto la conversione delle altre monete, ovviamente, quindi tutto ciò che avevo racimulato con Bitcoin e Dogecoin li ho convertiti in Litecoin. Ma è esattamente la stessa cosa che facevo anche prima. Quindi, di conseguenza, vi rendete conto dell'impennata che c'è stata. Poi ho fatto un ritiro e questo ritiro lo sto inviando su Eobot. Eobot, non ve l'ho ancora spiegato, ma ve lo spiegherò sul prossimo video. È un software, un sito molto interessante che ci permette di andare a creare moneta aggiuntiva, semplicemente, con il nostro PC. Quindi, ragazzi, vi sto svelando come fare a creare denaro dal nulla, semplicemente, con il vostro computer. Non dovete dirmi grazie, non mi interessano i ringraziamenti. Se volete farli, accetto comunque, ci mancherebbe. Però qui si tratta di condividere un qualcosa di molto interessante, quindi avere il piacere di farlo e darvi, oltretutto, del supporto per poterlo fare. Aggiriamo le banche, ragazzi, agiriamo le banche. Allora, questo video lo concludo qui. Se avete domande o qualsiasi altra cosa da chiedermi, potete farlo nei commenti di questo video. Ciao a tutti e buona serata.